Cari amiche e cari amici, una pillola di Marcello Veneziani che è una perla e si intitola Si riapre la cernita per vagliare, la destra buona e la destra cattiva. Ogni tanto Riciccia una parola in disuso, destra. Qualcuno di voi mi chiede di intervenire sull'ennesimo ciclico dibattito sulla destra buona che qualcuno ha lanciato allo scopo di separare e rimpicciolire, rendere la destra un giocattolino portatile nell'anticamera loro. Non lo sto seguendo, non mi interessa. Per questo ne scrivo solo qui nel blog, ma da quel che voi vi segnalate, mi citate, non è cambiato poi molto rispetto agli ultimi vent'anni. Dunque, la destra buona, ascoltate bene, per essere buona non deve essere destra e non deve avere il riconoscimento degli utenti di destra, perché il passaporto deve essere rilasciato dalla sinistra e dalla cupola mafiosa che governa la cultura e l'editoria. Per essere buoni, di destra, bisogna avere uno dei seguenti requisiti. Essere morti, ad esempio, o essere perdenti, minoritari, subalterni, insomma, essere di destra ma disprezzarla, magari preferire la sinistra e comunque allinearsi al politically correct. Essere di destra ma innocui, farfalleggianti, evanescenti. Con la destra ridotta a tic, sfizio, civetteria. Ben lontani da idee, principi, coerenze, temi politici, civili e culturali davvero fondanti. Una destra meno tradizione, una destra meno patria, una destra meno popolo, meno famiglia, sbarazzina o archeologica, comunque innocua e magari compiacente. Infine, giovano all'accettazione, le leccatine e gli incensi. Altrimenti, beh, altrimenti sei cancellato, negato nell'esistenza, vilipeso e mai letto se non di nascosto, scansati libri, ridotto a una frase, a una battuta, insomma, crocifisso. Per queste ragioni non mi interessa parlarne, non mi interessa rivendicare alcunché, non mi interessa un beneamato tubo del dibattito. E di prenderne parte neanche, non mi interessano i dibattenti, ma giocate voi con la destra. Noi non abbiamo né tempo, né voglia, né mente, né cuore, tantomeno uno scopo per questi giochini. Ci basta narrare la miseria del presente e la grandezza dei cieli. Bene, cari amici e cari amici, un pollice su per il mio lavoro, un abbraccio a grande Marcello Veneziani, sempre incollati al decimo toro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.